Bari, una delle città più dinamiche ed imprenditoriali del sud d'Italia, ha ospitato nei giorni scorsi la conferenza internazionale Astra sul sistema tarifario del trasporto pubblico locale, organizzata in collaborazione con l'Associazione Internazionale dei Trasporti Pubblici. Quello che è emerso in questi giorni è che in Italia le tariffe del servizio pubblico locale sono le più basse d'Europa e che le tariffe pugliesi sono le più basse d'Italia, il che ovviamente è un buon segnale per i clienti ma un po' meno per le aziende di trasporto. Il quadro normativo prevede che almeno il 35% dei costi di produzione del servizio vengano coperti dagli incassi, dalla venda dei biglietti e con le tariffe così basse le aziende vanno molto in sofferenza. Quindi c'è nelle tariffe un problema di carattere industriale e economico ma c'è anche un problema sociale, di questi ce ne rendiamo conto. Probabilmente è poco corretto, o quantomeno più giusto dire sbagliato, far pagare lo stesso biglietto sia a chi ha capacità economiche, quindi reddituali più alte e chi invece ha difficoltà economiche e di reddito. Al Mercure, Villa Romanazzi e Carducci, la partecipazione di operatori provenienti da tutti i continenti. Tema centrale, peraltro anche assai spinoso, quello delle tariffe, un argomento che catalizza aspetti fondamentali per il settore dei trasporti pubblici. Le tariffe rappresentano infatti un punto di equilibrio essenziale tra le problematiche di un'azienda del settore e le politiche sociali degli enti locali. Equilibrio economico dell'impresa, garanzie per il diritto alla mobilità delle categorie svantaggiate, strategie di mercato, copertura dei costi e infine innovazione e lotta senza tregua all'evasione tariffaria. Sono tra gli aspetti principali affrontati durante l'incontro chi ha visto incrociarsi esperienze di carattere internazionale, offrendo l'opportunità di conoscere quello che è considerato il meglio che il settore realizza a livello mondiale e nazionale, in tema di sistemi tariffari. Dalla regolamentazione delle tariffe ai sistemi di pagamento. La conferenza di Bari ha messo a confronto l'intera filiera italiana del trasporto pubblico locale tra operatori, autorità e industria. In evidenza uno studio di Astra sull'evoluzione delle tariffe in Italia ed una ricerca dell'ISFORT che affronta il tema della tariffa da un'angolatura socio-economica. La nostra proposta di Astra è intanto quella di dare una specificità alle tariffe, ovvero garantire a fine di poter sensibilizzare un maggior uso del mezzo pubblico. Riteniamo che sia oggi importante favorire tariffe eque. Nella specificità è giusto che pensionati, studenti e disoccupati, per citare solo tre categorie, abbiano delle tariffe più agevolate a chi chiaramente ha la possibilità di produrre reddito.